Ciao a tutti. Tra qualche giorno saremo a marzo, una data importante. Di solito dai primi di marzo tutte le persone che sono state in letargo durante l'inverno inizieranno la loro attività in previsione dell'estate imminente. Iscrizioni in palestra, massaggi, diete e quant'altro. Anche la pubblicità in questi giorni ha iniziato un battage su diete, tisane miracolose, creme estetiche dai poteri mirabolanti. Ieri sera mi sono imbattuto nella famosa pubblicità della somatoline che inizia dicendo la cellulite è una malattia. Vero, una malattia mentale di chi pensa che mettendo la somatoline sparisca la cellulite. Se non attuate un sistema di vita salutare, attività fisica, cibo buono e in quantità equilibrata, uno stile di vita di un certo tipo, pur immergendovi in un bidone di somatoline, la vostra cellulite rimarrà lì. E quest'estate avrete le gambe sicuramente in uno stato identico a quello che avete oggi. Quindi il mio consiglio qual è? Cercate di attuare uno stile di vita sano, dell'attività fisica costante. Non vi ammazzate di corsa da oggi fino a giugno, non risolvete niente, vi fate male, poi venite da me perché non per la cellulite ma perché avete male alla schiena. Se adottate questo stile di vita, se vi muovete con costanza, se non pensate di iscriverti in palestra a marzo in attesa del miracolo o venite da me nelle ultimi 15 giorni perché poi dovete partire, dovete andare in vacanza, vedrete che il risultato sarà sicuramente migliore, anzi otterrete un risultato e resterà costante nel tempo. Non avrete la fisarmonica dell'aumento e della diminuzione del peso che poi sistematicamente pagherete nel tempo perché poi la qualità muscolare peggiorerà, la qualità della vostra pelle peggiorerà, eccetera eccetera eccetera. Ascoltatemi una volta tanto, vi aspetto.